Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant penso. E ora Raffaele questo Natale è stato in America e abbiamo con lui direttamente il... direttamente, l'abbiamo chiamato e vediamo se ci risponde. Raffaele, ci senti? Sono? Raffaele, ci senti? Sono? Non ho capito. Chi sapo? Raffaele? Yes? Ma quando ritorni? Eh, this is mezz'oretto, tre, quattro, sto blocco. Va bene, allora ci vediamo direttamente nel mio studio. Ma buono, fai un buon caffè e un bicicletto acqua. Ok, sempre simpaticissimo, eh, grazie. Lotte! Ritornati adesso al nostro studio, abbiamo qui il nostro amico Raffaele, ritornato fresco dall'America e l'ora lo intervistiamo. Buonasera. Raffaele mi avevano detto che, diciamo, stai introducendo nella tua, nella tua vita la lingua inglese, è vero? Sì, sono tornato ora dall'America, mi è venuto a fidare la saluta. Ma lei, cioè, se chiediamo andato a lì a fare un po' di cosette mie per Natale. Sì, ma... Sono andato ad esportare una, una bancata di pannettone, la, che non so nemmeno cosa so. Scusate un po' il linguaggio, ma mi è rimasto un po' quella cosa, yes and no, di là, diciamo. Però vedresti tutto bene, mi è mancata tanto la mia cara Napoli, o Vesuvia, Pizzo, Mandoline, Pulicinelle, ole ole. Ciao, Melda Flip! Eh, vogliamo una prova a chi lei è stato veramente in America. Ah, so! Fare domande, fare parlare inglese mio, ho imparato l'altro. Allora, ora dovete fare la traduzione di questa frase. Ehi, traduzione di questa frase, chi stai vuoi? Traduzione di questa frase, vai, dimmi una frase di traduzione. Confermo, io sono Andrea Parigi, l'aeroporto. Sì, sì, tu stai parlando, manca lì, un po' favolese. Prende a lei. Sono uscito con la mia ragazza e dopo un mese ho fatto sesso. Eh, che ci vuole? Allora. Ieri sono uscito con la mia ragazza e dopo un mese ho fatto sesso. Allora. Last two day, This is for a camminare my girl, femmina. Così, scusi, cosi. Es faciliare guardare sempre. Acce, es faciliare un mese ho fatto sesso. Niente proprio. Es femmina, guarda, psicoso romantica. Es piaccia. Se hai capito niente, c'uva, perché la es piaccia. Fate sex, night sex. Sex night. Ok, ok. Lasci fate ridere la casa e poi 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 c'è, va, non mi toccato. Ah, non mi toccato. Chi è loro, proprio, che la fe? Io te Simone Candela. Che sto azzate? Candela. Chi è solo, che mantenevo? Mantenevo Candela, proprio, faremo complermi lui. Ok. va bene allora chiediamo ah ma lei quando diciamo è stato lì a brucoli brucoli c'è sì che comunque sempre che l'ha riusciato come me te ne erano mai sempre un'esca shop e ci venivano rotto non lo sa ci facciamo si stavano proprio l'acido stiamo venuti a sapere che lì quando stavate lì a brucoli diciamo c'era un bel giro di soldi è vero ah faccio un cazzo di soldi poi nemmeno tipo così che l'emarie ne spavano nel letto e risparate e cazzo che ricavano in la macchina non ma napoli a me le sapul di costerne dalle gallette io devo dire ma sta cosca allora c'è tutti quanti i macchini con le land perché l'america è sempre sola sempre solo sempre macchina descapposcapposcia perchè poi la ducano risolto per un futuro ma che sai stessa calzando porto a filipoli semmo fuggia con le vicine dopo andare capa andare con donna in malattia un gioco in costume perché poi la brucia di marzo posso perdere costo semmo raffaele per tuttora molto simpatico che sembra essere una bella pazzo world mio per farmi la ma anche un magazzino panno ben assoluto la maglietta scani sono accettati a ok è per curiosità di poter far trovare la botella allora per 7 giorni di viaggio su l'aereo mi fate parlare e lì per curiosità cosa mangiate merda pop merda aver mai sempre chili hamburger toast che colazione merda fa uovo bacon ogni tanto ci sono i panni portate la moto della mondiale sul tuo non sapere mai che cazzo non mi piace ah eeeh eeeh coca cola pan di sprit tutto il video russo non mi piace non mi piace il video russo ah ok ebbè cosa vi vorrei dire siete felici di essere tornato qui a napoli ma sinceramente dire che non mi piace ci sono tutti i ragazzi giocati ci sono i ragazzi non mi piace 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 ma soprattutto non mi piace perché la youtube sulla della inglese parlava lo stesso mi piace se si dice l'inglese grazie la stagione la stagione chi sta sempre scemo chi sta costa pensare non si è costa fatto riportano poi la comunque natale molto più bello devo dire la verità si fanno regali quegli alberi giganteschi con tanti regali sotto invece a me la per la medicina piccirina di se l'apro sotto i regali terminato già tanto e già fatto ma non c'è il tuo posto tutto l'anno sempre killer comunque volevo dire che arriva di 2009 noi saremo ancora qui per voi sono tornato apposta per voi dall'america adesso penso che partire un'altra volta per fuori italia fuori grotto andremo a fare la tournée che dire ragazzi vi aspetto sempre con tanti commenti già lo sapete se avete qualche idea per qualche video fateci sapere un bacione da parte della nostra comitiva un saluto un po letto a lago ci può bucchini saranno saluta marco 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 band and c'è calato pazza e sarà comitivo ma e ragazzi che dire felice del 2009 davanti davvero pazzo e mario rischio nettamente dal brasiliano con telefonino ma grazie arrivederci c'era al prossimo video